In Italia siamo molto indietro, molto indietro secondo tantissimi parametri che misurano il grado di innovazione e di digitalizzazione e uno dei problemi più grossi è il problema del digital divide culturale. Noi purtroppo in Italia ancora non abbiamo capito cos'è veramente la rivoluzione digitale, non è solo una cosa di settore, non è un giochino per alcuni ragazzi che si divertono a stare su internet, a chattare con gli altri, la rivoluzione digitale è qualcosa di fondamentale e lo sviluppo economico passa di lì, noi dobbiamo cercare di fare di tutto perché la maggior parte dei cittadini e degli imprenditori si rendano conto che ormai nel ventunesimo secolo non è più possibile pensare di fare a meno della rivoluzione digitale. Capire che cos'è internet, capire cosa questo implica nei cambiamenti che sono, che vengono creati nel modo di fare impresa, nel modo di fare il marketing, di vendere, nel modo di concepire lo sviluppo della propria azienda e del lavoro stesso è un concetto fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, della nostra regione. Quindi esempi come quelli che vediamo oggi di collaborazione con una grande multinazionale, un'eccellenza internazionale come Google che cerca di aiutare gli imprenditori con il supporto della Camera di Commercio a capire che cosa vuol dire fare imprese nel ventunesimo secolo sono fondamentali, sono esempi che occorre moltiplicare e farlo anche molto velocemente. Noi non abbiamo più tempo da perdere, non è più una questione di hardware, di tecnologia, è soprattutto una questione culturale. Non possiamo più permetterci come paese di considerare la digitalizzazione internet alle reti in generale come una cosa di settore a cui qualcuno può far pinta di non vedere, di non interessarsi. Non è più questo il momento, il mondo è andato avanti e noi dobbiamo cercare velocemente di recuperare il gap.